di essere qui con noi e noi sappiamo però che possiamo parlare a nome anche di tutti loro e dire con molta forza che il terrorismo non passerà e che se la sua idea era chiuderci in casa, limitare le nostre libertà, toglierci la parola non ci riuscirà né oggi né domani né mai. È il terrorismo che vuole alimentare la paura, è il terrorismo che oggi ci vuole portare a un'idea di guerra santa e noi dobbiamo dire di no e mi permetto senza forzature ma a me ha colpito molto la madre di Valeria, di quella ragazza che lavorava da qualche anno in Francia e che è stata proprio uccisa dai terroristi, quando ha detto che non si sarebbe mai fatta strumentalizzare da nessuno e quando gli amici di Valeria, una ragazza impegnata nel sociale, impegnata come ognuno di noi a fare in modo di potersi realizzare nel lavoro che fa e vivere la sua vita, molti hanno ricordato che essendo in Francia da anni ed era già lì anche un anno fa con gli attentati, si era sempre battuta dicendo che la risposta al terrorismo non poteva essere la guerra ma doveva essere la pace, la democrazia, l'estensione dei diritti e della libertà delle persone e allora penso che nel fare un applauso, nel ricordarla possiamo dire che in nome anche della sua vita, dei suoi valori, della sua battaglia noi siamo qui e porteremo avanti questa nostra grande democrazia e diciamo anche con molta chiarezza che non può essere la risposta alla guerra, impariamo dagli errori, l'11 settembre quando ci fu il famoso attacco la risposta fu la guerra, bene, dobbiamo prendere atto che quelle guerre hanno fatto fiorire ancora di più l'ISIS, non esisteva l'11 settembre l'ISIS, l'idea di uno Stato islamico alternativo e allora noi dobbiamo imparare da quegli errori, oggi la risposta non è la guerra da fare, dobbiamo combattere il terrorismo e per farlo cominciamo a dire delle cose molto precise, se davvero tutte le forze e tutte le nazioni del mondo vogliono combattere l'ISIS allora diciamo con chiarezza, basta vendergli le armi, basta comprare il petrolio da loro, la prima operazione da fare è prosciugare sul piano economico, qualsiasi rapporto e dobbiamo dire anche agli Stati e alle nazioni che è venuto il momento di smetterla con doppi giochi e guardare semplicemente agli interessi del controllo economico che può avere il petrolio, anche perché quelli dell'ISIS, cominciamolo a dirlo, gestiscono traffici di ogni genere, dalle droghe al petrolio agli esseri umani ai beni archeologici, allora di questo bisogna cominciare a parlare, dobbiamo anche dire che quelli sono un'infima minoranza del mondo musulmano e dobbiamo cominciare anche tra di noi ad avere una conoscenza precisa di quello che sta avvenendo e del nemico che dobbiamo combattere ma anche degli amici che dobbiamo avere e cioè dell'unità che dobbiamo costruire e in questo caso penso che l'altro messaggio che dobbiamo mandare è dire no ad ogni forma di razzismo, questa equazione che anche nel nostro paese qualcuno tenta di fare, che i migranti sarebbero uguali a terroristi è una cavolata pazzesca, è una sciocchezza e lo dobbiamo dire con forza, anzi al contrario, dobbiamo dire che se il governo vuole fare delle cose vere anche in questa direzione è ora che ci cancelli la legge bocci fini, è ora che ci dia il diritto di voto, è ora che ci cancelli quella tassa assurda sui permessi di soggiorno e cominciamo a dire le cose, cominciamo a dire che le persone che regolarmente straniere lavorano in Italia, cominciamo a dire quante tasse pagano, quanti contributi dell'Inps pagano, quante pensioni pagano anche a quelli che ci sono e cominciamo a dire che il problema non sono i migranti, il problema di questo paese sono quelli che le tasse non le pagano, sono quelli che vadano in fisco, sono quelli che corrompono, sono quelli che fanno arretrare questo paese e allora è questo e allo stesso tempo dobbiamo dire e io penso che dobbiamo ringraziare l'intelligence, le forze dell'ordine che con il loro lavoro stanno permettendo assieme a noi di difendere la democrazia, di difendere la libertà e di essere qui a poter democraticamente continuare a batterci in questa direzione e questo io credo sia il messaggio che oggi dobbiamo costruire ed è un lavoro che dobbiamo fare nei prossimi giorni e come è stato detto per dare un senso di unità molti di noi, anche il sottoscritto, la stessa CGL che qui assieme a noi oggi e che ringraziamo per il contributo e il lavoro che abbiamo fatto assieme, oggi anche noi saremo nella piazza che è stata convocata dalle associazioni musulmane perché è il momento dell'unità, al centro ci deve essere la persona, non c'entra la religione, l'idea che hai, il centro è la persona, la libertà, la democrazia, i diritti e dobbiamo impedire che invece passi un'altra logica, che è una logica che risponde anche a questioni economiche, finanziarie, badate che se ci riflettiamo non c'è mai stato tanti conflitti e tante guerre come adesso e da un certo punto di vista non c'è mai stata una concentrazione del potere economico e finanziario come adesso, anzi è il momento che la politica torni ad essere politica, che gli stati e i governi tornino ad essere stati e governi che fanno l'interesse generale dei popoli, delle persone e non della finanza e non del fatto che è la finanza che comanda o che decide per profitti e per interessi perché una parte delle guerre deriva proprio da lì, dal controllo del petrolio, dal controllo delle multinazionali e questa logica che io credo noi dobbiamo combattere e allo stesso tempo dobbiamo anche dirlo, noi nel combattere il terrorismo, nel dire no alla guerra vogliamo anche che non vengano cancellati i nostri problemi, in questi giorni nel silenzio più totale, di nuovo al Senato il governo ha messo la fiducia sulla manovra di stabilità e c'è il rischio che non si parli di quello che sta succedendo ed è una manovra sbagliata, lo diciamo con molta forza, è una manovra che non serve a questo Paese, il nostro problema è il lavoro, il nostro problema è che chi è disoccupato oggi, chi è precario deve avere il diritto e la possibilità di lavorare e di potersi realizzare, ma quella manovra non affronta questi temi, non crea lavoro, è una manovra che rinvia i problemi, che non mette in discussione i vincoli europei, che non combatte l'evasione fiscale, che non combatte la corruzione, anzi da un'idea, da dei messaggi, pensiamo all'elevamento del contante, pensiamo ad aver cancellato per tutti, a prescindere la tassa sulla prima casa, in un Paese che ha l'evasione fiscale che conosciamo, se vogliamo recuperare i soldi bisogna andarli a prendere dove sono e dove sono? Sono nell'evasione fiscale, nella corruzione, introdurre una tassa sui grandi ricchezze, sui grandi patrimoni, oggi in Italia è la cosa da fare, perché abbiamo bisogno di investimenti, di piani straordinari per l'occupazione e per il lavoro e non è il momento di tagliare la spesa pubblica, non ne parlano, ma dentro a quella legge di stabilità sono previsti per i prossimi tre anni più di 20 miliardi di tagli, è previsto un taglio senza precedenti alla sanità e alla messa in discussione di diritti fondamentali, stanno addirittura tagliando anche i capi, i patronati, i servizi che servono alle persone, stanno tagliando le risorse per poter rinnovare i contratti nazionali e eventualmente i soldi invece a chi li danno? La tassazione viene calata non per fare pagare meno tasse al lavoro dipendente e per aumentare gli stipendi, ma si parla di ridurre la tassazione ai profitti di impresa, si sta ragionando su una riduzione generalizzata, nemmeno vincolata agli investimenti che dovrebbero fare, semplicemente con un'idea che è quella che lasciare licenziare le persone più facilmente e fare pagare un po' meno di tasse sarebbe la strada per far uscire l'Italia dalla crisi, diciamolo, è una stupidaggine totale, non solo non ci farà uscire dalla crisi, ma semplicemente aumenta le diseguaglianze, aumenta le diversità, quando in un paese sei povero pur lavorando vuol dire che non è quella la strada che devi seguire e che è necessario cambiare il quadro complessivo e allora noi diciamo che quella manovra va cambiata e noi abbiamo delle proposte, vogliamo mettere al centro la questione delle pensioni, è stata una follia, quella fatta dal governo Monti è votata, è inaccettabile, è sbagliata, quella riforma che non è una riforma va messa in discussione radicalmente, bisogna ridurre l'età pensionabile, bisogna reintrodurre le pensioni d'anzianità a partire dai lavori più pesanti, non è vero che i lavori sono tutti uguali e che l'aspettativa di vita è uguale per tutti, dipende dal lavoro che si fa, dipende dalla fatica che fai, così come non possiamo continuare a non affrontare fino in fondo il problema degli esodati, dovevano parlare qui anche i famosi precoci, quelli che hanno cominciato a lavorare a 14-15 anni, questo è un punto che va affrontato ma lo dobbiamo dire anche per i giovani, per il futuro, perché è un sistema puramente contributivo, è un sistema che non sta in piedi, non esiste in nessun paese d'Europa, questo vuol dire dire alle persone che non c'è più la sanità e la pensione pubblica ma che si vuole privatizzare tutto e questa non può essere la strada che noi seguiamo e su questo punto è necessario che da oggi, lo diciamo alla CGL ma anche alla CIS della UIL, è necessario che riconosciamo gli errori che abbiamo fatto e che su questo tema apriamo davvero una mobilitazione nel paese, perché lo dobbiamo dire con forza che se si vuole creare posti di lavoro, noi che l'università non l'abbiamo fatta, sappiamo che se mandiamo in pensione le persone vuol dire che i giovani possono andare a lavorare e questo è un elemento da mettere in campo da subito e guardate che ci sono altri due temi che questo governo non ha pronta, qui doveva parlare la Lega Ambiente a nome di tutta la coalizione del clima e come si vede non è un giorno che il clima ci aiuta molto, ma se ci pensiamo qui c'è un punto di novità che chiede un cambiamento anche a noi, il modello di sviluppo, il modello di sviluppo, il modello di produzione va radicalmente cambiato, pensiamoci, quello che è successo alla Wolfagen non è solo un problema della Wolfagen, siamo proprio ad un passaggio, se voi ci pensate i prodotti che noi facciamo non sono riciclabili, alla fine inquinano, non hanno un rispetto dell'ambiente, dei valori fondamentali, se non ci rendiamo conto che se non cambiamo il mezzo di produzione, i prodotti noi mettiamo a rischio non solo la nostra vita ma il futuro del pianeta, non comprendiamo che c'è la necessità di un cambiamento e allora questa è una battaglia da fare, ma questo vuol dire investimenti pubblici, vuol dire una politica dell'Italia e dell'Europa diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi e anche per questo ci vogliamo muovere e voglio concludere per non tediarvi troppo, visto il clima davvero in pausto con cui siamo a fare e mi rendo conto che per me stare al coperto è un conto, per voi essere sotto l'acqua un altro e quindi non voglio tediarvi ulteriormente, ma due cose le devo dire, noi siamo qui per il rinnovo dei contratti nazionali e non è un problema solo dei metalmeccanici, è un problema di tutti i lavoratori italiani, sono 6 milioni i lavoratori che da anni non hanno il contratto o che sono senza contratti e qui vadate che sia il governo, diciamolo, sia la confindustria, stanno e vogliono mettere in discussione l'esistenza stessa dei contratti nazionali di lavoro, quando si dice defiscalizziamo la contrattazione aziendale vuol dire mettere in discussione il contratto nazionale e allora c'è una battaglia da tutti da fare e lo dico perché in questi giorni i metalmeccanici nei luoghi di lavoro hanno votato e hanno detto che c'è una piattaforma della Fionche approvata e noi abbiamo riconquistato il tavolo della trattativa, grazie a voi, grazie a un sindacato che rappresenta, che ancora nelle fabbriche ci volevano cancellare e invece siamo più forti di prima, con più voti, con più iscritti e non ci fermeremo. E infine, credo che sia importante dire una cosa, io ringrazio la segreteria della CGL che doveva parlare qui oggi ma che ha dato il mandato a me di poter parlare a nome di tutti e voglio partire da un punto, la CGL ha deciso una cosa importantissima la scorsa settimana, noi l'avevamo detto che non ci saremmo fermati, che il jobax non l'accettavamo e lo volevamo cambiare, bene la CGL ha deciso che entro il mese di dicembre verrà messa appunto una proposta, un nuovo statuto di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici fino al lavoro autonomo e abbiamo anche detto che quella proposta la discuteremo con tutti perché noi vogliamo uno statuto di tutti i lavoratori, non semplicemente tornare a quello di prima, noi gli vogliamo estendere i diritti a tutti e anche a quelli che non ce li hanno e dobbiamo superare la competizione tra lavoratori ma la decisione importante che è stata assunta è che tra gennaio e febbraio ci sarà una consultazione straordinaria di 5 milioni e mezzo di iscritti e in quella consultazione oltre a dire se si è d'accordo o no con la proposta decideremo assieme anche di fare un referendum abrogativo per cancellare quelle leggi sbagliate e il governo lo deve sapere che non ci fermiamo, che questo vale e quando un governo fa delle leggi sbagliate noi le metteremo in campo tutto e abbiamo bisogno in questa fase del massimo di unità dei lavoratori, delle lavoratrici e della CGL, grazie per essere stati qui, per aver sopportato questo clima, grazie per il vostro coraggio e diciamolo questa è la parte sana del paese che non si inchina e che tiene assieme la lotta per il lavoro, per i diritti contro il terrorismo e contro la guerra, grazie. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao